Quanto cazzo sono farghe le mie nuove balance yoga? Yippee Ciao ragazze, io sono tornata qui a Dr. Charm e proviamo, cioè riproviamo a fare dopo l'estate il picco laser il picco laser è un laser che ringiovanisce tantissimo la pelle e nel mio caso mi aiuta anche per le macchie tra l'altro questo mese c'è una super offerta perché è Babyface, che è questo trattamento con picco laser a 99 euro, potete venire anche a mio nome e potete prendere appuntamento scrivendo a loro, ve li taggo direttamente qua Buonasera ragazze, oggi vivo i ragazzi, volevo farvi conoscere questo, è Luxuria e questo qua è esattamente Z, sono profumi equivalenti però sono estrade parfum perché hanno il 40% quindi più di un profumo normale di profumazione guardate che bella anche, tutta la confezione e questo è uno dei profumi unisex ovviamente quindi sia per uomo che per donna oltre hanno anche i profumatori d'ambiente che sono pazzeschi grazie a tutti grazie a tutti la favolosa suocera dice sempre la sua io non ho modo neanche dovresti dare delle spiegazioni su determinate cose che sono successe ma favolosa, non c'è una suoceraccia ora non c'è una suoceraccia non c'è una suoceraccia Na 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 Scalerò, scalerò, scalerò Come da un larsan Dimmi te perché mi hai fatto scendere da una Mercedes Prenderò un treno perché ne so Mi fai cantare Me giù non ho più capaz ni di niente Mi fai cantare Ti giuro, non ho più bisogno di niente Se stai con me, me, me Ti giuro, non ho più bisogno di niente E sentite con che canzone li facciamo entrare, ma è finita Quindi, no, quindi Le mani, tutto incomincia sempre con le mani E sentite con me, me